Book 2 57 Dal dottore Ho un appuntamento dal dottore. Ho l'appuntamento alle 10. Ho l'appuntamento alle 10. Come si chiama? Per cortesia si accomodi nella sala d'attesa. Il dottore arriva subito. Che assicurazione ha? Che cosa posso fare per lei? Prova dei dolori? Prova dei dolori? Dove le fa male? Ho sempre dolori alla schiena. Ho sempre mal di schiena. Ho spesso mal di testa. Ho spesso mal di testa. Qualche volta ho mal di pancia. Per favore si metta a torso nudo. Per favore si metta a torso nudo. Si sdrai sul lettino per cortesia. Si sdrai sul lettino per cortesia. La pressione è a posto. Le faccio un'iniezione. Le faccio un'iniezione. Le prescrivo delle medicine. Le prescrivo delle medicine. Le prescrivo una ricetta per la farmacia. Le prescrivo una ricetta per la farmacia.